Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petro Greltanche e questo non è il solito video. Vi spiego perché da un po' che non escono video, senza preavviso soprattutto. Molto semplice, ho avuto la sessione d'esame. E inoltre per un po' non usciranno video per tre motivi. Primo e secondo, Capodanno e Natale, Natale e Capodanno, e di conseguenza ho poco tempo per fare video. E l'altro motivo è che tra poco il mio computer andrà a essere potenziato perché gli cambio le RAM e quindi non ce l'avrò, non avrò la possibilità di utilizzarlo. Ma la cosa che mi riende triste è un'altra. Di recente c'è stato un notevole calo degli iscritti. Prima crescevano di circa 100 al mese, adesso di una ventina. Ma non è neanche questa la cosa peggiore. La cosa peggiore è il calo delle visualizzazioni. Perché sono passato ad averne un numero normale per il mio canale a una ventina. Che per un canale di 700 iscritti sono davvero davvero pochi. E qui arriva il punto in cui entrate in gioco voi. Ho bisogno del vostro aiuto perché vorrei che mi diceste cosa dovrei fare per migliorare il mio canale. Quale tipo di contenuto dovrei portare. E cosa non è andato bene, cosa vorreste che smettessi di portare. Capisco che magari portando più FIFA ho scombussato un po' ciò che vedete di solito sul canale. Perché ho portato più FIFA e meno Minecraft che eravate abituati a vederlo in grande quantità. Perciò vi chiedo, preferite Minecraft? Preferite FIFA? Cosa volete che porti? Cosa volete che smetta di portare? Datemi dei consigli utilizzando magari l'hashtag io ti suggerisco. Ok? Che avevo già utilizzato in questo video. E che mi può servire a sapere le vostre impressioni. Inoltre se utilizzate l'hashtag io ti suggerisco io andrò a fare un salto sul vostro canale per darvi qualcosa nel momento in cui voi date qualcosa a me. Fatemi sapere anche votando nel sondaggio che vi metto qua sopra cosa volete che faccia. Come posso migliorare per portare dei contenuti che siano più adatti alle vostre esigenze. Concludo dicendo che ci vedremo il prima possibile. Non so sinceramente quando usciranno video. Mi dispiace tanto per questa cosa. Di sicuro dopo l'epifania e dopo aver superato l'altra sessione d'esame che è in quel periodo cercherò di portare video con più continuità. Intanto vi auguro davvero una buona continuazione. E ciao ciao belli. Ciao ciao. Ciao ciao.